Mi hanno chiesto di campare, ma io non canto, perché non è che è un buono. Poi non ho mai campato un po' di cani. Quindi devo dire, io non so come ringraziare. Sono venuto molto a guarda qui. Sono un uomo di santo da... Sante. Sante. Sante, ho rotto da un po' di anni. E' un po' di due anni. Mi chiedevo di venire a fare un salto qua nella scuola dove si ne aveva soltanto. Sono venuto più a guarda qui. Non so. Ok, non. Vai. Volevo dirvi bravi. Voi bambini di Sepugnalo, siete stati bravissimi. Continuate così. Le vostre poesie sono veramente belle. Chissà che un giorno ne possa nascere qualche canzone. Complimenti e mi raccomando, continuate così. Vedi tu? Anche quando devi iniziare. Continui a girare. Vedi, bravo. Vedi, bravo. Vedi, bravo. Girati. Grazie. Io credo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.